Il mister della squadra e l'assessore allo sport della Comune di Perugia, Ilio Liberati. Abbiamo avuto un entusiasmo enorme e un lavoro di tutti dopo che A1 è arrivata. Io sono sicuro che abbiamo costruito una squadra giovane, buona, che avrà sicuramente il suo spazio anche in A1. Noi cerchiamo di fare molto bene avendo giocatori di classe, avendo anche giocatori che hanno giocato con noi l'anno scorso, che hanno dimostrato tutto il suo valore e abbiamo preso un'altra che hanno esperienza o hanno talento di diventare grandissimi giocatori. Sì, veramente una bella realtà. Si è consolidata lo scorso anno con quella ottima promozione. All'inizio dell'anno forse era un po' inaspettata, però io dico sempre che il lavoro paga. Quest'anno tra l'altro è stato formato un gruppo ancora più importante. Ho visto Kovac molto motivato. Questi ragazzi mi pare che siano giovani e siano molto determinati e motivati, con voglia di arrivare. Per cui credo che il combinato disposto tra l'esperienza e questa prorompenza fisica e giovanile credo che sia di buon auspicio per il prossimo campionato. Sono molto molto ottimista.